Occhio, 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 signori miei, signori miei, vi vengo subito a pescare perché lo so benissimo. Neschio, neschio, hanno battuto il Lecce, eh? Ehi, Lecce, li voglio vedere adesso contro Milan, Atalanta, Inter, vediamo lì il Napoli di Conte, vediamo lì. Quindi, vi dico una roba, il Napoli a quelle sfide là ci arriva con cinque punti oggi, oggi cinque punti sulla seconda, con una partita in meno l'Inter, ma si affrontano Inter-Juventus. E quando tu puoi anche ragionare su un bel gruzzoletto che ti sei conquistato, il discorso cambia, ragazzi, specialmente in un campionato come il nostro, dove, no, stai a fare qualsiasi ragionamento, per cui battere il Lecce vale tre punti, eh? Battere il Milan varrà tre punti, non è che vale il doppio, vale tre punti, i punti li devi fare con queste squadre qua, ragazzi. Conte lo sa bene, e la sua squadra assorbe come una spugna, Conte lo sa bene, e la sua squadra assorbe come una spugna. Quindi è inutile stare a dire, eh, ma anche con Lecce, magari ci aspettiamo un gioco di fer... Ragazzi, il Napoli non si deve confrontare con City, con Real Madrid, con Bayern Monaco, con Barcellona, il Napoli deve, Napoli di Conte vuole vincere lo scudetto, non vuole fare altro, vuole questo qua. E tu lo fai portando a casa punti su punti su punti, il Napoli l'ha già portato a casa, se non sbaglio, 22. Ha perso col Verona, ha pareggiato con la Juventus, tutte le altre, vittoria, punto, stop. Le chiacchiere, dalle mie parti si dice, le chiacchiere stanno... non ne fa chiacchiere, questo si dice, non ne fa chiacchiere, punto. E adesso parliamo un po' della partita. Prima, se volete, vi invito a lasciare un like, no, per dare una carezza all'algoritmo, che altrimenti affossa il contenuto. Iscrivetevi al canale per seguire i prossimi, appunto, di video e attivate la campagna, altrimenti non vi arriva nessuna notifica, e quindi tutto quello che avete fatto non serve a nulla. E io vi ringrazio per il supporto. Inoltre, ancora una volta vi ricordo il corso gratuito, altrimenti non starei neanche qui a parlarne. Il corso gratuito offerto da Match Betting Academy, numero uno in Italia, un'azienda incredibile sul match betting, che ricordo ancora una volta, a scaso di equivoci, non stiamo a parlare di gioco d'azzardo, non si tratta di scommettere su una squadra, su una partita, su uno dieci, su quello che è, cercando poi di vincere, assolutamente no. Si parla di guadagnare in maniera matematica dai bonus che vengono erogati dai siti delle scommesse per incentivare al gioco. Quindi si tratta di uno stipendio matematico che voi potreste portarvi a casa. Come? Andate al link in descrizione e vi registrate al corso, ribadisco ancora una volta, gratuito, gratuito. Non c'è da pagare una mazza, quindi andate sotto. Torniamo alla partita, andiamo alla partita. Oggi il Napoli ha fatto quello che doveva, una partita assolutamente diversa rispetto a quella con l'Empoli. Magari anche l'Empoli, un avversario, secondo me, ad oggi parlano in numeri, un avversario più corazzato, calcisticamente parlando. Però il Lecce è conscio dei sei gol presi in casa contro la Fiorentina, ha avuto un approccio anche diverso. Ha creato anche le sue situazioni, se penso a quella di Dorgo nel finale, che doveva tirare, non capisco perché l'abbia messo in mezzo. E se vogliamo nel primo tempo il calcio d'angolo di Baschirotto, qualche buona sgroppata di Banda, che però la porta non la vede mai. Banda senza porta sarebbe un giocatore straordinario. Ma levato questo, abbiamo visto un Napoli che, dopo i primi 20-25 minuti di pochezza, perché nei primi 20-25 minuti, come al solito, ritmi blandi, ritmi lenti, poi al primo spauracchio creato dal Napoli, con un Gilmour che, secondo me, è iniziato a entrare nel vivo del gioco, inizia a essere il cervello, visto che se manca l'obottica c'è bisogno di una sostituta all'altezza. E oggi Gilmour, secondo me, si è dimostrato anche tale, perché ho visto dei campi gioco, ma anche di qualità, delle combinazioni con McTomin, i giocatori che sicuramente ha fatto decisamente meglio rispetto all'altra partita. E Napoli, come dicevo, poi aveva trovato il gol, l'ha annullato per fuori gioco, ma da lì è stato un crescendo e si vedeva che, onestamente, era nell'aria il gol. Quindi, oggi, rispetto alla partita con l'Empoli, io non parlerei neanche di caso, assolutamente, in alcun modo. Il gol era nell'aria ed è arrivato. Ed è arrivato, nonostante ancora il Napoli non abbia dalla sua l'attaccante. Il Napoli ancora sta giocando senza l'attaccante, per quanto mi riguarda, perché Lukaku non può essere quello che abbiamo visto per 70 minuti. Poi, nell'ultima parte, si è anche un po' svegliato, si è fatto quel bellissimo stop da lancio lungo da 50 metri, abbiamo visto una sgroppata dove lo devono atterrare. Il Lukaku deve essere più quello che quello che abbiamo visto, invece, nei primi 70, ribadisco. E, nonostante questo, il Napoli porta a casa punti, perché poi c'è gente corazzata. Anche, sa, McTominay è un centrocampo non solo di sostanza. Di Lorenzo è ritornato, secondo me, su ottimi, ma veramente su ottimi livelli. È un giocatore che è ritornato a splendere. L'aggiunta di buongiorno dietro ti dà delle sicurezze che prima, nella passata stagione, assolutamente non avevi. E sommando tutta questa roba qua, sommando tutta questa... Perché il Dexter? Mamma mia, mamma mia. Dexter, sai calmo. Sommando tutte queste situazioni qua, devo dire che poi il Napoli... E il Napoli risulta la squadra che è oggi. Ma lo è, soprattutto, ribadisco, nell'atteggiamento, nella testa, sostanzialmente. Perché assorbe come una spugna. Chiudo con l'episodio di Politano che è, per quanto mi riguarda, cento volte più rigore rispetto a quello che abbiamo visto, per esempio, ad Empoli. Ancora una volta, per quanto mi riguarda, c'è discrepanza. Non si capisce con la differenza che questa volta l'arbitro ha deciso che non fosse rigore e non è stato richiamato dal VAR, anche perché altrimenti davvero iniziamo a parlare sempre di movioli in campo ed è la cosa che è la più spiacevole di tutte. Però è chiaro che se vedi i rigori dell'Empoli, se vedi quello di oggi, dici come? Lì lo dai, questo non lo dai. quando è nettamente banda che frana su Politano in una maniera proprio inequivocabile. Eppure nel calcio di oggi, con il regolamento, le regole, l'applicazione soprattutto di oggi, succede spesso sta roba qua. Quella di trovarci a dire perché qua, perché la... funziona così. Ragazzi, Napoli a 22 punti, ribadisco se non vado errato. vince, ripeto, in tanti si aspettano il bel gioco. No, in Napoli le partite le vincerà così e le vincerà. Questo è da interista il problema. Il Napoli le vincerà queste partite così. Senza se e senza me. Signori, fatemi sapere, cosa ne pensate voi. Commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio, Daneschio. Vi ricordo, link in descrizione per registrarvi gratuitamente al corso di Match Betting Academy. Dateci un'occhiata. Ciao. Ciao. Ciao.